ciao fiorelline fiorelline questa è la seconda puntata di l'assaggi americani adesso mangiamo questo qua io sono sempre qua adesso ci abbiamo questi qua e io sono sempre qua ecco due buono tutto buono le ultime patatine cipolla che vabbè apri e mangiamo ma questo la fa? questo qui fa se fa lì vabbè ammiziano qui per così lì? quelle lì lunghe lì buono vedi qua non c'è lì patatine come se rovinano ahhh buono le? molto dolce no mi sento dopo pezzo e non vedremo più se a gusto pronti? pronti? qui sono panchette e come andiamo uno per uno? è grotto? no, meno come si aprono? che non lo mangio? no, ma è proprio così o no, come si aprono? è così si rompe? vabbè, bagnate così te è un mio italiano? vabbè comunque buono buono, si rompe tutto è un zucchero filato andiamo su un zucchero filato vabbè, assaggiamo zuccherofilato alla fine del vino ci sa più no assaggiamolo ah sembra il cotone? te, senti te perché io mi mangio il petto aspetta qua, alla fine del video non ci sa più se lo mangia tutto lo chiede? non mi fregare il mio zucchero filato buono buono non mi fregare le caramelle non le vuole aprire quelli tu no le vuole aprire quelli tu non le vuole aprire quelli tu perché io no non vuole aprire le caramelle questa è la prima che hai? e me ne dai un pezzettino? non si buono che so già te no le cazzo un pezzettino metà? no per me è difficile ma che è duro vuoi altri pescetti? no basta no la marina mi vuole quello appiccicato? sono uguali sono ah no questa è la vaniglia li apriamo tutto sono sempre quelli che... e non ti staccano? e va bene e non ti staccano e non ti staccano ma gli hai daiato ma che dai va sono contenta ormai in realtà c'è proprio qui ecco ecco l'esatta vabbè vabbè staccano la vabbè vediamo se questo è la crema a caramel no che non ti piace sì a me piace però mi rimane staccato il ginger ma sono proprio i biscotti l'ho tagliato ma così ecco a metà tè come fai a metà non ti tagli vai fizzicoso ci ci ingrassiamo colpa di alberi ma questo è il melone guarda 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 ora lo facciamo eh melone la mamma poco melone non so non è quello che quello vedi la pesca la pesca la pesca la pesca ora saliamo quello però bisogna mangiare una cosa piccata la pesca si perché quello è il dolore non stanno di niente buttiamo gli vegani non stanno di niente proprio così perché te la devi adere perché hai mangiato la roba dolce bevi quello ecco perché questo assaggiamo guarda roba che sta io la chiede cosa so che è il melone e sarebbe il cocomero e il limone e che sa quello melone eh guarda così lo chiamano qua chiamano cocomero questo pure te questo pure te questo pure te buono buono mappi buona roba la fangrassare è finita? c'è due tira fuori tira fuori cosa c'è? non ho mai bevuto non ho mai bevuto non ho mai bevuto non ho mai bevuto e ce la fai a mangiare? no non ho mai bevuto non ho mai bevuto eh con che ho mai bevuto vado con te la stufa faccio stagliare un po' è duro per guarire è duro dai cuore il pezzo buono buono cioccolato fondente questo non è mica tanto fondente perché è squagliato cioccolato fondente ah cioccolato fondente e c'è Rachele è pieno che bagna guarda che è? non ci vuole far vedere è un quadrato da per uno non è un quadrato non è duro è una cosa dentro? è una cosa dentro? no no è un olio di cocco mmm buono il cocco non piace ma ci pesiamo dopo? è pure piccante che c'è stato? no perché si sta mangiando un sacco di roba no no è quella cioccolata buona quando manca tanto? eh si sto capendo per il video per questo guarda questo questo c'è il soldo dell'america il soldo vabbè il soldo questo qua è duro è duro buono quello è duro è duro è duro buono quello quello è duro è duro è duro è duro è duro è duro non serve te la pesca è duro è duro è duro è duro è duro mi ha mancato tanta roba ancora? è duro e allora facciamo mancare questa parte? però dura troppo queste caramelline le guirizza vuoi tu le guirizza ci ha messo le altre vabbè 12 minuti vabbè 12 minuti ancora che cioccolatini questi sono caramelle che si può mangiare incazzando non lo spessavo non lo spessavo inizio sono morbide buone scorta così lo facciamo vedere caramelle così 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 e così tanta roba ma io ho rinvito il tavolino quanto so ah quanto so quelle caramelline a forma di pesciolino 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 ma non vediamo non posso mai fare vedere solo che è il formaggio non so che non è il formaggio questa è la banana questa è la banana questa è la banana questa è la banana ma questa è la banana le ramelle queste sono caramelle a questo qua ha rinunciato quelino buona! mi ha caduto ancora? eh, Anna, ti piacereò alla prossima! mettete le mani di tutti i lacchi e iscrivetevi al mio canale la terza puntata non me la perdete via!